Il gruppo coeso è una parte fondamentale per la vittoria del campionato perché comunque vincere un campionato è lungo, estenuante e richiede momenti dove magari delle persone sono più o meno stanche e quindi magari altri compagni sono fondamentali che magari giocano un po' di meno e poi ovviamente l'unione di intenti della società, dei tifosi, dello staff della squadra, si deve formare un'alchimia dove ci vuole anche un po' di fortuna perché comunque vincere il campionato non è solo questione di bravura ci vuole anche un po' di fortuna e se tutte queste componenti si sommano è un bene. L'ambizione del Monza è sicuramente stata altissima e hanno deciso di fare le loro scelte mi si è colta questa occasione di una chiamata a Palermo e non ci ho pensato due volte infatti la trattativa è durata pochissimo perché comunque ero convinto di venire in una piazza incredibile. Le sensazioni sono positive, è anche vero che è da una settimana che ci stiamo allenando e stiamo lavorando tanto a livello fisico quindi stiamo faticando abbastanza. col mister io lo conoscevo comunque per fama perché comunque so che è un allenatore che ha sempre giocato per vincere e mi reputo che in questa piazza sia uno dei migliori allenatori che possa esserci. come integrazione sono un ragazzo che comunque non è che è di molte parole però tende a dare il proprio contributo anche con una corsa in più rispetto a una chiacchiera in più però il gruppo è molto... ho la fortuna che comunque il gruppo c'è... tanti giocatori sono dell'anno scorso quindi si conoscevano già ci hanno fatto, ci hanno integrato in maniera molto positiva.